Veloci fronti atlantici interessano l'Italia, uno di questi passerà nella notte tra venerdì e sabato sulla regione interessando principalmente la costa, le zone riontali e la bassa pianura. Avremo quindi piogge nella notte e la possibilità di qualche spruzzata di neve in montagna oltre 300 metri circa, possibilità di neve anche di primo mattino sul Carso oltre i 300-400 metri circa. Nella mattinata di sabato però il tempo migliorerà e avremo un cielo in genere variabile su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna dove prevarrà il sole. Per quanto riguarda le temperature massime arriveranno intorno ai 10 gradi su pianura e costa. Dalla tarda serata di sabato un nuovo peggioramento porterà ancora delle deboli piogge sulle zone di costa e orientali, ma già nella mattina di domenica la perturbazione se ne sarà andata. Ne arriverà un'altra nel pomeriggio, quindi domenica al mattino variabilità, poi in giornata cielo coperto e intorno a mezzogiorno, primo pomeriggio, ritornerà a piovere e a nevicare in montagna oltre 700 metri circa. Piogge che dovrebbero proseguire fino a sera, la quota neve nella sera di domenica dovrebbe attestarsi su 800-900 metri circa. Probabile tempo brutto nella giornata di lunedì con cielo coperto, piogge abbondanti e abbondanti nevicate in montagna oltre gli 800 metri circa. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA, un saluto da Marcellino Salvador.